Da un paio di settimane la Guardia Costiera di Pesaro ha interdetto lo spazio di navigazione al largo delle acque del San Bartolo nella zona prospicente la falese dei Monti Castellaro e Brisighella tra Santa Marina Alta e Fiorenzuola di Focara. Il motivo dell'ordinanza è alquanto singolare. Sui fondali infatti potrebbero esserci tracce di un relitto d'aereo precipitato durante la Seconda Guerra Mondiale. Si tratta di una segnalazione arrivata due mesi fa alla Capitaneria di Porto di Pesaro dalla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacuo di Taranto che ha invitato al divieto di navigazione. Un divieto che serve a consentire le ispezioni preliminari che si stanno effettuando a circa 350 metri dalla costa con immersioni coordinate da una squadra che comprende Capitaneria, Marina Militare e Sovrintendenza. Si sta cercando di comprendere il luogo in cui il velivolo si sarebbe inabissato e dove attualmente risulterebbe totalmente sommerso dal fondale sabbioso. Noi stiamo approfondendo alcune informazioni che abbiamo ricevuto con la sovrintendenza con il nucleo dei Carabinieri e con la Marina Militare e con il Consubin per puntualizzare alcuni aspetti. Abbiamo ricevuto questo input ma ovviamente stiamo verificando effettivamente tutto quanto ci è stato detto. Sono state fatte delle immersioni specifiche e continueranno ancora nei prossimi giorni. La Capitaneria di Porto ha emanato un'ordinanza a interdizione ai fini di sicurezza della navigazione e a salvaguardia della vita umana in mare.